News. Vincendo 2-1 contro la Cremonese, la Virtus Santella è promossa in cadetteria. Ieri sera grandi festeggiamenti in piazza Mazzini a Chiavari da parte dei tifosi bianco-celesti che hanno atteso l'arrivo del pullman dei giocatori provenienti da Cremona. Le accuse del presidente della Provercelli alludendo alla gara tra Virtus Santella e Cremonese farà una segnalazione alla procura. Buongiorno ai telespettatori del TGT Guglio. Dunque, come è giusto, come è ovvio, come avete sentito dai nostri titoli, il telegiornale di oggi è praticamente quasi interamente dedicato alla grande ed importante vittoria ottenuta ieri dalla Virtus Santella. Allora ripercorriamo tutto con i servizi curati da Joël Capello e incominciamo. Allora è Serie B vincendo 2-1 contro la Cremonese. La Virtus Santella è così promossa in cadetteria. Sentiamo subito tutti i dettagli. Dal prossimo anno si giocherà di sabato e Serie B. Per la prima volta una squadra del TGT Guglio approda nella cadetteria. La Virtus Santella ha espugnato lo Zini di Cremona. I bianco-celesti, sostenuti da 500 tifosi chiavaresi, hanno vinto 2-1 contro la Cremonese. La Virtus Santella va in Serie B grazie ad un punto di vantaggio sulla Provercelli. 58 punti bianco-celesti e 57 punti bianchi. A precisa domanda su quale sia stato il punto decisivo, il presidente Antonio Gozzi non ha dubbi. Quello di Savona e quindi il gol più pesante è stato quello di Moreo. In effetti quello di ieri è stato un pomeriggio complicato per la Virtus Santella. La Cremonese passava in vantaggio all'ottavo con Caracciolo e in contemporanea la Provercelli andava avanti con la Carrarese. Questo significava sorpasso dei piemontesi che vedevano la Serie B. Al 53esimo arriva però il pari dei chiavaresi. Ci pensa Troiano a impallinare Bremec. Ma serve ancora un gol per la B dei bianco-celesti che arriva puntuale al 65esimo con una giocata di Staiti. Cremonese 1, Virtus Santella 2. Il triplice fischio finale fa esplodere di gioia i ragazzi di Misterio Caprina e con loro i tifosi entegliani. Il triplice fischio finale fa esplodere di gioia. E allora grandi festeggiamenti ieri a Chiavari già nel pomeriggio dopo il risultato della partita e grandissima festa alla sera in piazza Mazzini da parte dei tifosi bianco-celesti che hanno appunto atteso l'arrivo del pullman dei giocatori provenienti da Cremona. Vediamo. E ieri sera intorno alle 21 i tifosi bianco-celesti si sono dati appuntamento in piazza Mazzini sotto l'ex tribunale. per festeggiare la squadra giunta da Cremona in pullman. Non sono mancati, come giusto che sia, sfottò nei confronti dei corsari, ovvero i rivali storici di S.S. Levante. Giusto così, visto che siamo stati in testa per 29 giornate su 30, in settimana avevamo preparato la gara alla perfezione, affermato il tecnico da Raveto Santella, Luca Prina. I ragazzi poi sono stati eccezionali, non sono certo facile superare l'impatto psicologico di essersi fatti recuperare otto punti di vantaggio. E ora ci godiamo questa promozione, la dedica al presidente in primo luogo, afferma Prina, ma chiaramente anche a tutto l'ambiente. Soddisfatto ovviamente il presidente del club di Via Gastadio, Antonio Gozzi, prese la società del 2007 in eccellenza, portandola nel 2008 in Serie D con la vittoria del campionato. Poi due ripescaggi, uno dalla D alla Lega Pro 2 nel 2010 e uno dalla Lega Pro 2 alla Lega Pro 1 nel 2012. Ieri la storica promozione in Serie B, non c'era riuscita l'entella di Tonino Solari negli anni 60, non c'era riuscita l'entella bacenza di Sergio Barbieri negli anni 80, c'è riuscito lui, Tonino, con la Virtus Santella. Ci siamo complicati la vita nelle ultime 4-5 giornate, però oggi i ragazzi sono stati bravissimi, concentrati, hanno fatto una cosa molto difficile perché passare in svantaggio al quindicesimo e raddrizzarla è stato veramente difficile. Speriamo di mettere in campo una squadra che tenga la categoria, questo è l'obiettivo, speriamo di regalare a Chiavari tante giornate non come questa perché saranno impossibili e indimenticabili, però tante giornate importanti, di calcio importante, di calcio pulito, di calcio sano, di calcio senza ultraspazi e di calcio con le famiglie. Ho detto che speravo e spero e credo che i successi dell'entella siano i successi di Chiavari e consentano a questa meravigliosa città, a questo meraviglioso comprensorio di pesare di più, di pesare sempre di più, di creare nuovi progetti, nuove cose, nuove imprese sociali, culturali, non solo sportive. Guardate le mie dichiarazioni di un mese fa, venti giorni fa, anche nel momento più difficile, ho detto soffriremo molto ma alla fine ce la faremo, abbiamo sofferto molto e alla fine ce l'abbiamo fatta. B come? B come... Belin! Grande Presidente! E vicino alla squadra anche l'amministrazione comunale che naturalmente ha preso parte ai festeggiamenti ed è stata così l'occasione per ascoltare proprio le dichiarazioni di sindaco e vice sindaco Roberto Levaggi e Sandro Garibaldi, parlano dei festeggiamenti e si parla naturalmente anche dei lavori per il campo. Sentiamo. A Cremona c'erano anche il sindaco di Chiavari e Roberto Levaggi e il vice Sandro Garibaldi. Chiavari una città di serie B e questa volta non ha una valenza negativa. Purtroppo abbiamo perso il tribunale quest'anno, ma è stata una sconfitta questa non dovuta a noi, ma a fatti nazionali. Qui io ci credevo, oggi sono andato ingradinata con i tifosi a Cremona, abbiamo preso tanto caldo, è stata una vittoria thriller perché lo dico sinceramente, dopo l'1-0 ero abbastanza pessimista, però devo dire la verità, il successo questa squadra l'ha costruito non oggi, ma l'ha costruito in tutto questo campionato, è sempre stata prima e all'ultimo ha subito un po' ovviamente la stanchezza e anche lo stress di essere prima. Comunque posso dire come sindaco, devo ringraziare i dirigenti, il presidente, Gozzi, il mister, Brina, tutti i giocatori e anche se è stato palpitante la fine ce l'abbiamo fatta. C'è da spostare, di allargare leggermente il campo attraverso lo spostamento dell'erba sintetica, mettere i tornelli e alcune telecamere, ma insomma sono lavori che quest'anno penso che riusciamo a fare, la società sicuramente ci darà una mano, siamo d'accordo e poi per il resto vedremo, perché purtroppo in un anno possiamo giocare in deroga, l'anno prossimo vedremo se non cambiano le regole e vediamo cosa fare. E adesso dobbiamo parlare anche di un altro aspetto, è una torta, sono queste le accuse del presidente della Pro Vercelli alludendo alla gara tra Virtus Entella e Cremonese e che quindi farà una segnalazione alla procura. Sentiamo. A Vercelli però proprio non ci stanno, alla fine del primo tempo la Pro Vercelli in vantaggio sulla Cararese è stata in Serie B, ma nella ripresa la Virtus Entella prima pareggiava e poi raddoppiava sulla Cremonese, capovolgendo il risultato e vincendo il campionato. Il presidente dei Piemontesi, Massimo II, ha attaccato all'esito della gara da Rozzini di Cremona, parla addirittura di segnalazione alla procura. Si sapeva da tempo che sarebbe stata una gara finta, oggi lo segnalerò alla procura, ma credo che non cambierà nulla. Io sono il presidente di una squadra di calcio e non mi occupo di intercettazioni telefoniche. Sui giornali sportivi nazionali di oggi si è titolato biscotto e si iscriveva delle relazioni tra Virtus Entella e Cremonese e di rispettivi presidenti, ha affermato il numero uno della Pro Vercelli. Su come sarebbe andata a finire quindi tutti lo sapevano, perfino le società di scommesse non hanno quotato la partita. Dionigi, allenatore appunto della Cremonese, addirittura non ha convocato Brighenti, non mi risulta che sia infortunato, quindi alla Cremonese non importava nulla di arrivare terza. Il gol del vantaggio dei grigiorossi potrebbe far concorrenza a Ridolini. E ancora, va bene così, il calcio è una ruota che gira, chi non ha fatto il professionista si prende alle proprie responsabilità. Sono le parole secche e chiare del difensore centrale della Pro Vercelli Francesco Cosenza. Siamo una squadra forte, abbiamo ancora aumentato maggiormente la nostra autostima.